Lei è una persona pratica, è un pilota, voglio dire che ha a che fare con una specie di soluzioni per le cose. Ha avuto dei momenti quando era lassù e guardava fuori dal finestrino dove pensava a qualcos'altro, tipo cose filosofiche, tipo chi siamo e qual è il nostro posto nel mondo e cose del genere? Assolutamente, quando si guarda la Terra là fuori, specialmente quando si sta nello spazio per un lungo periodo di tempo, ci sono un paio di cose sulle quali penso, una è l'atmosfera, appare incredibilmente piatta, fragile, quasi come una lente a contatto sopra il bulbo oculare, l'atmosfera, appare incredibilmente piatta, l'atmosfera, appare incredibilmente piatta.